Non c'è la volontà, secondo me è giusto che qualcuno con la bicicletta a piedi passi dentro il parco che passare su un punto dove in realtà le macchine sfrecciano tutti i giorni avanti e indietro perché chi entra nel garage, chi esce, addirittura ci tolgono anche i parcheggi. La proprietà è nostra e la proprietà non si tocca, cioè se la mettono pure in testa che qui con tutte le forze che abbiamo qui la pista ciclabile non passa, anzi direi di fermare i lavori. Non le manda certo a dire all'amministrazione comunale Gianfranco Mazzanti, uno dei residenti del complesso residenziale delle Rose nel quartiere del Poderino. A far andare su tutte le furie lui e gli altri residenti sono stati lavori che da qualche giorno si stanno ottenendo all'ingresso del parco delle Rose per la realizzazione di una di quelle zone di cucitura che sono state annunciate venerdì scorso dall'amministrazione comunale per i percorsi ciclopedonali. E' appunto la realizzazione di uno di questi percorsi su quello che a dire di Mazzanti essere un terreno di loro proprietà adiacente tra l'altro all'uscita dei garage del condominio. Ci sono i parcheggi, la proprietà da quando è stato costruito il palazzo del 1972 è rimasta sempre la proprietà del parco delle Rose e noi proprietari che ci abitiamo. Automaticamente è venuto fuori che quando c'era la giunta Gucci con l'assessore Falcioni era stato detto che con disavanzo dei soldi si sarebbe fatta la nuova pista ciclabile all'interno della pista attualmente di patinaggio del parco dei bambini eccetera dove adesso è pieno di siringhe. A questo punto abbiamo detto no, la proprietà è nostra e noi giustamente dobbiamo passare. Dove esiste, io gli chiedo dove esiste che io per entrare nel garage debba passare su una pista ciclabile pedonale per entrare nel mio garage? A prescindere il fatto che dal 72 che passiamo perciò è un diritto acquisito e il comune si deve scordare, dipende da queste cose, è altro che andare dal notaio e sottoscrivere e basta. Primo, secondo, io se vado con la macchina su una pista ciclabile o su una pista pedonale sono passibili in multa. Io qui di tutti i giorni sono in multa, quando entro, quando esco a chi devo dare la precedenza? A chi viene o a chi esce? Siamo all'interno del parco delle Rose e di là dalla siepe c'è il camminamento, il passaggio delle auto del condominio delle Rose. Quello che loro propongono, i condomini, è appunto di realizzare la pista ciclabile in questa fascia che va proprio qui dal dente fino laggiù in fondo dove si stanno eseguendo i lavori in questo momento perché in questo modo si rimane in terreno comunale. Di là, invece, si potrebbe lasciare invariata la situazione che i condomini hanno in questo momento con il passaggio e l'accesso alla rampa del garage come avviene in questo momento. Ma dal comune, carte alla mano, ci fanno sapere che quella dei residenti del condominio è una valutazione errata. A comprova di ciò ci viene mostrata la visura cattastale del foglio 36 dove viene riportato che la particella 1697, quella appunto incriminata, è di proprietà del comune. Vedremo ora se alla luce di questo i condomini decideranno, come annunciato, di alzare le barricate sul cantiere. Questo è un assurdo, la mia macchina è ferma qui, voglio vedere chi è che ha il coraggio di spostarla. Noi faremo di tutto per non far passare questa cosa. E mi meraviglio dei tecnici, io non ce l'ho con l'aggiunto, non ce l'ho con il sindaco Massimo Seri perché è una persona molto corretta, seria, onesta, c'è tutto. Però è contornata da persone che non sono dei tecnici. Io quando mi arriva qualcosa in giunta, prima di tutto valuto, guardo le cose, eccetera. Fanesi è venuto qua lui stesso a dire che era pericoloso fare la pista di cabine qua, a questo punto l'altro giorno arrivano dei tecnici, vanno avanti i lavori e non si fa manco vedere. Questo è scorretto. Noi con tutte le forze ci opporremo a questa situazione.